È un grande onore oggi essere qui all'apertura del Festival della Statistica che ormai ha il suo sesto anno. Questo è il primo anno che io faccio in qualità di Presidente della SIS ma a questo evento ho creduto molto sin dal 2015 quando ho partecipato in quanto Presidente del Comitato Programma del Convegno SIS dedicato a Corrado Gini nel 2015 qui a Treviso c'è stata la prima edizione di questo festival. Quest'anno speriamo di dimostrare di poter fare il salto di qualità e quindi allargare gli orizzonti della piazza di Treviso a una Gorà molto più ampia che abbraccia tutti i paesi e tutta l'Italia.